Welcome back Hero, episodio numero 82 di Podcast di Invest Hero. Siamo nuovamente qua. Bentornato Hero. Tra l'altro stavo notando che comunque stiamo facendo una sequenza, o meno proprio una sequenza, però tipo da un po' di podcast, incluso anche questo, stiamo dando un occhio in più alla parte imprenditoriale. La vita di un investitore imprenditore a un certo punto diventa essenziale. Esatto, esatto. Anche perché questo podcast risulta molto interessante magari per tante persone, ma soprattutto per la massa, in quanto viene messo allo scoperto i vari main business di alcune aziende. Cosa si intende? Si intende che buona parte delle attività per essere sane, per avere una struttura sana, il loro vero guadagno non è dato dall'immagine di facciata che hanno, ma da qualcosa, diciamo sul retro, viene definito poi di back-end, quindi prodotti di back-end. Poi li vediamo nello specifico. Ma per comprendere questa cosa, magari iniziamo a fare anche un paio di esempi giusto per... Si, 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 perché ci sono proprio delle aziende che nell'immagine collettiva, comunque che molte persone pensano che guadagnano in un modo, invece guadagnano in tutt'altri modi. E questo è interessante approfondirlo e scoprirlo perché può dare input per i propri business, può far aprire comunque la mente, far aprire e intersecare nuovi meccanismi che ti danno quelle idee, quel boost che dici, ah, magari qualcuno può venire anche un po' a un'illuminazione e rivoluzionare completamente il proprio business, la propria azienda o perché no, crearne uno. Si, e proprio partiamo da qualcosa di abbastanza generalizzato, poi magari facciamo anche nomi specifici di brand giusto per analizzarli in pieno. Però a livello generale prendiamo l'esempio del cinema, proprio il cinema inteso come luogo nel quale vai a vedere i film, con gli amici, con la fidanzata, quello che vuoi. Nel momento in cui tu stai acquistando il biglietto per il cinema, loro hanno un livello soglia con il quale vanno in pari. Vanno in pari con che cosa? Con i costi di gestione della sala, l'acquisizione di diritti cinematografici e così via. Loro, cioè il cinema in sé, ok, quando fa il pieno di posti inizia ad avere già un po' di margine, ma normalmente sulla media generale una sala di cinema va in pari con i biglietti venduti. Poi, il loro vero margine del cinema in sé è tutta l'attività di bar catering, quindi l'attività di F&B dove lì ci sono i veri margini. Perché? Perché nel momento in cui ti spillano una Coca-Cola, proprio una Coca-Cola alla spina, a me l'ultima volta che mi viene in mente che ero stato in un cinema a Milano, vengono a costare mi pare il mezzo litro, 5 euro. Sì, dipartono Popcorn e Coca-Cola, 8-10 euro. Quindi, però, per loro il costo è veramente irrisorio, veramente ridotto. Poi, ovvio, ci devi inserire dentro diverse voci nei costi, come per esempio il personale, le bollette, questo qua, ma questi vengono messi in pari dalla vendita dei biglietti. Quindi, il biglietto è il prodotto di front-end, è il prodotto che richiama l'attenzione che, mettiamo, anche se è errato, è un po' il lead magnet, quello che chiama la persona per portarla in sala, e tutto il resto di bar catering sono i cosiddetti upsell o i cosiddetti cross-sell, a seconda se si, questo qua è un po' più cross-sell, perché non stai upsellando il biglietto. Ecco, l'upsell sul biglietto sarebbe il post-premium. A me viene in mente che ci sono alcuni cinema che dicono, ah, guarda, metti 3 euro in più sul tuo biglietto, hai post, portano a VIP, questo è vero. Quello è l'upsell, perché comunque è sempre all'interno dello stesso prodotto in sé, il posto associato al biglietto. Il cross-sell sta a significare che tu sei entrato, sei diventato cliente, ma quello che ti viene venduto è un prodotto collaterale. Quindi, in questo caso, il food and beverage, tutta l'attività di catering, è il vero e proprio cross-sell dove ci sono immagini. Questo qua è l'esempio classico del cinema. Sì, un altro guadagno che mi viene in mente dei cinema, che però è strettamente legato ai multisala, è il fatto che spesso viene utilizzato dai costruttori o comunque dai proprietari del cinema multisala, che spesso sono anche proprietari delle mure in alcuni casi, che dicono, ok, io ho un flusso costante comunque di persone che viene chiaramente per andare al cinema, queste mangeranno, queste comunque vorranno magari guardare un po' le vetrine, farsi un momento intanto che aspettano in sala giochi e quindi affittano anche delle posizioni vicino al cinema o comunque all'interno del centro multisala a un prezzo molto più alto che il normale centro commerciale, perché loro portano il traffico tendenzialmente. Quindi anche questa spesso è un'altra forma, più dal punto di vista immobiliare, che non tutti notano, non tutti riescono a concettualizzare un po'. Altra cosa che mi viene in mente nel mondo dell'intrattenimento barra spettacolo, comunque sezione leisure, a me viene in mente, sono stato tre volte a Las Vegas e a Las Vegas quello che avevo notato è che rispetto al resto degli Stati Uniti i costi delle camere d'hotel a parità di livello erano nettamente più bassi di altre città, però tutti gli hotel in realtà sono delle vere e proprie città, dove il proprietario di per sé ha la struttura hotel con tutti i vari servizi associati, quali possono essere il casino e i vari ristoranti. Anche lì la stessa cosa, la camera è il prodotto di entry che ti fa entrare proprio di diritto come cliente acquisito dall'hotel, o in questo caso dall'hotel casino, e poi tutti i servizi associati sono gli upsell e i crosssell, quindi ok ti presenti il casino, naturalmente a livello di casino la macchinetta ha sempre ragione, quindi riesce sempre a guadagnare nettamente di più, tutti i servizi di bar catering associati, alcuni hanno servizio di teatro, cinema, discoteca all'interno, e quindi sono tutti gli altri upsell sempre in questo mondo, l'Asia, se no se andiamo sempre su altre categorie che hanno a che fare con i viaggi, mi viene in mente i vari servizi di volo low cost, le compagnie di volo low cost, loro il vero business anche lì vendono i biglietti a prezzi più volte scontati, ti ricordi quando eravamo andati a Colonia che avevamo preso i voli a un euro ad andare, un euro a tornare, e poi paghi 25 euro di navetta, esatto, sì sì sì, è 25 ma è 40 euro di navetta, senza problemi. Parigi andato in ritorno con 2 euro, straordinario, però arrivi tipo a Parigi Beauvoir e poi ci sono 25, 27 euro di navetta, che chiaramente la navetta era sempre di Rayaner e quindi in realtà il vero margine lo facevano lì perché tu pensa a 100 persone nella navetta, poi chiaramente non tutti in aereo avevano pagato un euro, qualcuno di più, qualcuno di meno, in base a quando hanno prenotato, loro comunque fanno una distribuzione per sapere di almeno riuscire ad andarci in pari con il volo e poi li marginavano in maniera molto importante o in aereo dove si vendono i grattevinci, ti vendono le sigarette scontate, ti vendono di tutto e poi la navetta, anche quello era un grosso guadagno, ma un altro guadagno sono anche in quel caso le convenzioni che fanno proprio con le città e con gli stati per dire tu in questo momento in questa zona della città non hai turismo, non hai attracchi, noi ti prendiamo, ti mettiamo in funzione questo aeroporto e spesso prendono anche proprio dei soldi, delle provisioni, dei guadagni dallo stato che è contento di avere le compagnie perché comunque vi porta flusso di cassa, vi porta maggiore clientela e quant'altro. Quindi anche questo è un altro importantissimo, a parte gli incentivi statali, per la parte di aerei, comunque di Airbus importantissimo. Sì, e proprio parlando di questa cosa qua delle compagnie low costa, io le utilizzo ormai da diversi anni, l'Europa l'ho girata grazie a loro, grazie a Ryanair, Wits Air principalmente, anche EasyJet, mediamente prendo tra i 40 e i 50 voli all'anno e gli aeroporti principali dove mi trovo spesso, ma li conosco come le mie tasche. È interessante vedere il modello sia di Ryanair che di Wits Air dove ti richiamano l'attenzione con questi biglietti nettamente basse. Quindi, se stavo guardando prima, ho acquistato dei biglietti a 4,99 euro su Ryanair. Loro, con questi biglietti, arrivano ad un livello soia dove riescono ad andare in pari con il volo. Quindi, poi ovvio, pian piano che i posti vanno ad esaurire il prezzo, si innalza e lì iniziano ad esserci i primi margini. Poi, però, cosa succede? Una volta che sei sulla... Anzi, ancora prima, quando sei ancora in fase di prenotazione, c'è sempre la solita cosa. Ah, ok, vuoi prendere la priorità. Ah, io perché oggi è quasi obbligatorio. Cioè, il bagaglio... Oggi non puoi più di portare lo zainetto al 3 minuti con Ryanair, per esempio. Quindi, quei 20 euro in più per il bagaglio li metti sempre. Quindi, quello là in più viene messo. Vuoi il posto, quello un po' più ampio, anche lì viene inserito quello. Poi vai avanti, ah, vuoi l'assicurazione per il viaggio? Perfetto, loro te la fanno stipulare, quindi prendono anche lì una parte. Oppure, ah, ma ti serve l'albergo dove vai? Quindi, cosa stanno facendo? Stanno facendo comunque affiliazione in ingresso a un portale di booking o altro. Ah, ma ti serve l'auto? E quindi, anche lì fanno affiliazione verso le compagnie di car sharing. Cioè, meglio di rental car in questo caso, pardon, non car sharing. E questo qua è già solo nella fase di prontazione. Quindi, da un biglietto di 4 euro e 90, il più delle volte, l'utente esce fuori con un portafoglio nettamente maggiorato e già lì iniziano ad essere le margini interessanti. Una volta sull'aereo, iniziano tutte le varie cose, come upsell, trap, bevanzi. Poi in Ryanair di Jack sono pazzeschi, cioè, veramente, passeranno, boh, siamo venuti qui a Sofia in, quanto durero il volo? Sì, un po' comodo. Tre volte, quattro volte, era, le bevande calde, i grattevinci perché devono aiutare. I profumi, la cuffietta, quelle cose. Le sigarette senza ing, disaster. E quindi, tutti questi sono vari upsell che comunque fanno veramente i veri margini. 4 euro l'accia, riesco proprio a fare il numero. Cioè, un caffè che comunque, mi pare che 3,50 euro venga su Ryanair, 4 euro, allora effettivamente il costo della cialda all'ingrosso saranno 20 centesimi. Meno, meno, assolutamente. No, perché ci metto anche il bicchierino. Ah, beh, chiaro, tu compreso. In totale, quello che ti arriva è quello. Hanno marcap infinito. E questo qua è un altro esempio, giusto per comprendere altri esempi, perché è interessante da vedere e soprattutto nel momento in cui hai queste conoscenze, diciamoci, puoi fare anche un po' lo sborone con i tuoi amici quando, non so, magari dite, ah, guarda ragazzi, ci vediamo un attimo, andiamo al McDonald's a mangiare, no? E il McDonald's, effettivamente, uno dice, ah, ma cos'è, guadagna dei panini così? Ma, caspita, vivo in questo posto dove, se vado al ristorante e mi costa X, come fa ad andare avanti? Quindi, il McDonald's a livello di utenti, a livello di dipendenti, pardon, ha comunque un margine tra fatturato e utile di 100 dollari all'anno a dipendente. Loro si muovono naturalmente sulla massa generale dei dipendenti e quindi questi qua vanno a portare un minimo, cioè, di un minimo, essendo un numero abbastanza ampio, mi pare che sia ormai mezzo milione di dipendenti all'interno di McDonald's a livello internazionale. Eh, ma questo dato, sicuramente sono tantissimi, infiniti. Fatto sta, questo piccolo margine sul singolo dipendente diventa un margine nettamente superiore, ma il vero margine che fa il McDonald's non è tanto dal panino in sé. Sì, quelli, il più delle volte, gli serve per andare in pari o marginare un pochino, ma il grosso lo fanno con le attività di franchising, l'attività di acquisto-affitto dei locali e tutto. Cioè, quello è il vero business loro, è il vero prodotto di back-end che va a fare i numeri su McDonald's. Altri esempi che mi vengono in mente di, magari, servizi che vengono utilizzati tutti i giorni, per esempio Amazon stessa. Amazon è conosciuta come piattaforma multi-vendor, dove ci sono diverse aziende o anche persone che fanno Amazon FBA, dove vanno a vendere i loro prodotti o prodotti di terzi, e Amazon da lì prende qualcosa, giustamente, perché sta dando questa piattaforma veramente eccezionale. Così come poi ha tirato fuori altri prodotti collaterali. Quindi, ah, vuoi fare l'abbonamento a Prime, hai l'abbonamento ad Audible, hai l'abbonamento al Kindle Unlimited, Si, ora sta spingendo veramente a bomba su Prime, che ti dà qualunque cosa, cioè ti dà Prime Video insieme, Amazon Music insieme, cioè ci sta bombardando oggi di servizi extra per dire, devi abbonarti a Prime, devi abbonarti a Prime perché Amazon ha milioni, miliardi comunque di utenti, se tutti fanno Prime, esplode chiaramente. Ma non tutti sanno che Amazon ha anche una parte di back-end molto, molto forte sul servizio di web server e intelligenza artificiale. Infatti, tipo, io alcuni server che ho ostati per dei progetti sono presenti su Amazon, quindi metto lì tutti i miei dati, tipo i vari siti che girano sono lì sopra, così come i servizi di mail marketing, loro danno possibilità di servizi SMTP e robe varie, nonché anche studi su intelligenza artificiale con affitto di macchine per l'intelligenza artificiale. Questa è un'altra parte di business poco conosciuto che però è veramente forte. Sì, stanno fortissime. A-W-S, Amazon Web Service. Se voi andate a cercare questo trovate proprio l'area interna di Amazon. Che sta monopolizzando il mercato, tra l'altro. Che tra l'altro anche lì poi è interessante vedere il modello di business perché loro ti danno un anno gratuito di questo e poi vai a pagare a consumo, cioè però già lì riescono poi a marginare, a portare dei... quindi veramente bello, veramente interessante vedere quanto una facciata di un prodotto, di un brand, non è nella realtà il loro vero guadagno, ma qualcosa di correlato. Anche l'esempio è quello della Disney. Ah, Disney è eccezionale, Disney è incredibile. Quando pensiamo a Disney, tendenzialmente pensiamo sempre ai cartoni animati che ci hanno un po' accompagnato nell'infanzia, ancora tutt'oggi quando fanno... Da piccolino compri una cassetta. Stare rifacendo il remake di tutti i cartoni animati storici, cioè di Fattore del Leone, Mulan, tutti, di tutti. E siccome è stata una mossa straordinaria perché, se ci va a pensare, sono talmente cambiate le generazioni che chiaramente chi oggi ha dieci anni, che comunque è il target tipo tendenzialmente di chi va a vedere determinati film, quindi penso a Doom e quant'altro, non li avrebbero mai visti. Perché tutto il resto è in cassette o comunque in una qualità assolutamente non modernizzata, non attuale, li hanno rifatti tutti. E hanno riciclato lo stesso contenuto a livello editoriale di storia, l'hanno rifatto nuovo, no? Quindi con tutta la graffa, qualcosa in 3D. E hanno risbancato. Cioè Re Leone ha avuto un successo incredibile, non poteva che essere così, però mossa straordinaria perché hanno detto ok, quanti film abbiamo fatto in passato che sono andati bene? Ah, questi 30, 50, 100, ok, li rifacciamo tutti. Anche perché è più generazione. Esatto, sì, perché anche le generazioni, non so, io penso a chi comunque a nostra età, 30, 40, ormai gli agenti ha figli, dice cacco io me lo ricordo quando andavo, quindi le approfitta per riportare i propri figli a vederlo, perché lui intanto si ricorda un po' la propria infanzia, il figlio gli fa vedere qualcosa, anche un po' si calcola parte di tradizione, fantastica, oltre poi i film, l'intrattenimento un po' più per adulti che c'ha con la parte di Star Wars e tutta la parte che si è acquistata recentemente, che ha avuto un boom chiaramente stratosferico, però il guadagno di Disney non è qui, cioè il grosso del guadagno non è assolutamente sulla parte di intrattenimento e film. No, no, infatti, anche perché Disney è ben riconosciuta per i vari parchi tematici, parchi di divertimento in giro per il mondo, a me viene in mente Stati Uniti, Disney a Parigi, a Parigi senza problemi, a Singapore, qualcos'altro in Cina, dovrebbero essere 4-5 megaparchi, poi un sacco di parchi tematici. Esatto, parchi tematici, nonché anche lì a Hollywood, ricordo che ero andato agli studi della Universal, ma ci sono anche gli studi della Disney, quindi che sono aperti al pubblico, dove ti fanno fare i tour all'interno, esatto, esatto. Lo stesso mi pare che dovrebbe essere anche su a Londra, una roba del genere, comunque hai parchi tematici, grandi parchi divertimenti, parchi tematici, hotel che sono collegati, dove lì spendi veramente un botto, perché vai con la famiglia, dentro ci sono tutti i ristoranti, devi dormire per forza nello tele, perché c'è Topolino, c'è Pippo, ti fanno in compagnia, ti creano tutta l'atmosfera, tra l'altro straordinario a livello di come riescono a creare tutto il frame e tutta la magia, però vai lì e spendi veramente le reddite, spendi un sacco, e hanno dei margini importanti, una buona parte del fatturato di Disney, mi pare che circa il 30-35% viene dai parchi, mentre lato film, lato comunque produzione di contenuti multimediali, se non sbaglio è poco sopra il 10%, che comunque è una fetta importantissima sul fatturato multimiliardario di Disney, però i parchi rendono ancora di più. E oltre a questo, anche tutti gli accordi con le televisioni, a livello tipo Disney Channel, e i channel nel loro network. Sì, comunque Disney ha anche dei canali di sportivi molto importanti, anche questa è una parte fondamentale del suo business. La parte di merchandising, la parte di merchandising improprio, dove produce marchio Disney e vende all'interno di tutti i suoi centri, o comunque in partnership con altri negozi, oppure quando presse il marchio, tipo H&M quando fa la serie ad hoc. Cioè tu pensa a Topolino quanto l'hanno riciclato, cioè film, la parte di film, che quindi diventa proprio la parte di cinema, poi ci hanno fatto le serie, ci hanno fatto i fumetti, ci hanno fatto un sacco di merchandising improprio, hanno fatto il merchandising cedendo il marchio, cioè hanno fatto tutto... Anche i vestiti per le camgirl ci sono la Topolino. Non so se quello è voluto, però... Non so se lì la facciamo. Disney è molto interessante, perché anche proprio prendendo i numeri percentuali di come è organizzato il business, vedendo questo 10, 12, 15%, non lo ricordo esattamente, che è la parte dove tutti pensano che c'è il margine, quindi quella dei film, in realtà è proprio l'entry level, dove vanno a creare continuamente nuovi contenuti, nuovi prodotti editoriali su varie piattaforme, per creare sempre nuovi personaggi, per poi poterli inserire all'interno dei loro parchi, per poi poterli stampare sulle magliette, iniziare a fare il merchandising, in creare tutto il frame e far continuare un po' la storia infinita che funziona. Guarda Frozen, ultimamente è uscito, Frozen 2 ha avuto un successo megagalattico, e chiaramente poi te la ritrovi all'interno dei parchi, te la ritrovi dappertutto, è interessante. Ora Disney sta creando Disney+, Disney, Disney+, dove sta creando una piattaforma, non so se hai sentito, alternativa a Netflix, cioè sta creando una sorta di Netflix interno, dove ci saranno tutti i film Disney e tutte le serie proprietari Disney. Quindi quello che accadrà, inizialmente, è potenzialmente che questo andrà a erodere un pochettino di margine da altre situazioni, dai canali Disney+, cioè alle quei situazioni, perché verranno integrati in questa piattaforma, ma tanto la direzione è quella, la parte di streaming, ma sarà un nuovo asset importantissimo per Disney, perché io vedo, cioè a me viene in mente proprio, che si è messa a lato della grande competizione e diventerà complementare. Oggi abbiamo a livello di streaming due big player, cioè trascendo proprio quelli che fanno abbastanza ridere, cioè Amazon Prime, che sta spendendo miliardi e miliardi per creare contenuti, ha promosso la Ferragni, ha fatto dei film molto interessanti, sta spendendo veramente un sacco, e Netflix, chiaramente, che in questo momento stanno governando il mercato. Ecco, Disney+, si mette a fianco, perché non vuole andare a fare competizione, ma vuole dire, ok, questo, cioè Netflix e Amazon Prime, sono comunque contenuti per tutti, però non c'è la parte Disney, ma sono contenuti che cercano di prendere un po' tutti, quindi io immagino un futuro dove la famiglia avrà o Netflix o Amazon Prime e poi Disney, quindi a prescindere da quale sceglie, il canale sportivo, tipo Skype, cioè nel senso per vedere le parti classicone. Tipo un ultimo esempio che non tutti sanno, e quando lo raccontiamo, le persone ci restano lì un attimo, è, sei in una grande metropoli, o comunque magari vai in giro, viaggi, vai a finire in una città, in una capitale europea, e vedi i vari servizi di bike sharing, car sharing, anche scooter sharing, scooter intendo però in monopattini, all'estero scooter in monopattino. E uno dice, caspita che bello, mi scarico l'app, vado a sbloccare il monopattino, ci giro la città, oppure la bicicletta aprendo, ci giro la città e via. E non costa neanche, cioè oddio. 5 euro, dai. Diciamo che rispetto a magari fare il cosiddetto sbatti, di andare in un negozio specifico per fare il noleggio con tutta la contattualistica, qua è nettamente più veloce. Loro, con questi progetti, con queste attività di car, bike, scooter sharing, queste società vanno in pari, vanno in pari sull'utilizzo del mezzo in sé. Il loro vero margine è l'acquisizione di dati da dare ad aziende terze o comunque aziende associate o aziende partner a loro. Quindi è lì, è lì il vero business. Questo è incredibile, nessuno ci pensa. E infatti poi, perché ti arriva, magari hai sempre avuto un telefono totalmente vergine da chiamate strane, vai a finire in un'altra città, affitti per due ore, la bicicletta per girare così, settimana dopo ti iniziano ad arrivare le chiamate, telemarketing, una roba all'altra, ah guarda sono quello di sky che c'è da fare questo, questo, l'altro. Perché? Perché comunque sono delle estensioni di aziende più grandi dove c'è la possibilità di andare a fare la cosiddetta lead generation per terze aziende. Quindi questo qua è il vero business che c'è dietro a questi servizi. Ora, ricapitolando, abbiamo preferito fare prima degli esempi per comprendere e soprattutto per dare un'ottica molto tangibile a te che ci stai ascoltando. Però adesso a livello teorico spieghiamo cosa succede. Certo. Di base, ogni azienda per funzionare in maniera snella e vincente deve avere un prodotto d'ingresso, il cosiddetto prodotto di front end che in alcuni casi per alcune aziende è anche un prodotto gratuito o comunque è un prodotto che fa portare in perdita l'acquisizione del cliente. L'altro esempio che mi viene in mente è per esempio GoDaddy o HostGator che vanno a dare i domini un euro il primo anno cioè un dollaro il primo anno. Normalmente un dominio costa dei 10-15 dollari il punto che loro fanno entrare l'utente in perdita quindi vanno in perdita su questo primo step dell'acquisizione cliente ma nella realtà fanno tutta un'altra serie di servizi di upsell come tipo OilVuiz per coprire chi è il vero proprietario del dominio OilFiltro Antispam una roba e l'altra facendo OilHosting di un certo tipo tutte queste cose qua. Questi sono i veri upsell che ci sono dietro quindi un'azienda ha questo prodotto di ingresso dove può anche andare in perdita però serve per far attrarre persone che poi non è troppo distante dalla questione del volantino del supermercato anche rionale dove ti dice super offerta sul grana padano tanto che una volta che sei lì spiendi sul verso perché ti richiama in qualche modo e poi tutti i prodotti collaterali hanno i prezzi normali e quindi vanno dentro con quello in alcuni casi quando ricordavo le offerte quelle sotto costo servono proprio per attrarre l'utente quindi il primo prodotto è quello che ti serve per attrarre l'utente una volta portato a te l'utente con questo prodotto di front end ci sono una serie di procedure che vanno ad alzare il valore del portafoglio medio del cliente quindi queste attività sono gli upsell ovvero dal prodotto stesso vengono inseriti o dei servizi o dei prodotti correlati a a questo prodotto di front end quindi mi viene in mente proprio l'esempio di host gator ma parlando di good daddy un dollaro compri il dominio l'upsell può essere ok aggiungersi il la privacy viz per tenere i tuoi dati coperti e poi appunto comunque anche a lungo periodo perché dopo il primo anno paghi 10-15 dollari e se stai dentro 10 anni l'altro step è la ricorrenza quindi avere un cliente ricorrente in abbonamento vedi appunto amazon prime netflix e tutte le varie cose se no sempre in back end oltre gli upsell oltre le membership ci possono essere i prodotti di cross sell quindi dei prodotti non correlati al prodotto o servizio d'entrata ma che comunque appunto sono cross quindi possono incrociarsi molto molto bene esempio classico testi sull'aereo entri e compri il biglietto il biglietto è il tuo prodotto di front end l'upsell è vuoi il priority vuoi il posto quello un po' più largo lo paghi di più il cross sell quando sei sull'aereo invece è acquista la bevanda lo snack il profumo quindi tutte queste procedure vanno ad aumentare il margine che l'azienda può ottenere dal singolo cliente e lì il vero guadagno ed è lì proprio dove la parte imprenditoriale ha il suo peso perché se uno va a tenere sempre e solo dice ah ma caspita come fa Ryanair a vivere con i biglietti a 5 euro a 10 euro possibili tutti poi iniziano a dire roba di qua non paga nessuno non paga le tasse ma in realtà da Ryanair c'è tanto da imparare anzi anzi quindi questo qua è un po' tutta la struttura in sé che ha il reparto imprenditoriale in questo momento storico sarà magari sarà anche interessante vedere come non l'abbiamo vissuta però tipo non so l'imprenditoria post guerra come era strutturata quindi magari un altro podcast futuro ci informiamo quindi facciamo comprendere siccome si può dell'evoluzione e facciamo anche una prospettiva in qualche anno futuro interessante interessante oggi abbiamo fatto una bella carellata un po' mix tra imprenditoria e marketing e anche a livello investimento perché sono cose importanti da sapere quando si analizza un'azienda e comprendere effettivamente qual è il suo business mod e quali sono i suoi guadagni ancellari che spesso superano anche proprio quelli che possono essere l'aspettativa quello che si pensa essere il core business quando poi non è vero vero quindi questo è tutto caro hero se non sei ancora iscritto iscriviti a community www.investhero.it puoi entrare gratuitamente e da lì puoi trovare tutti i vari approfondimenti e sono tanti oggi oggi sono infiniti cioè se questi podcast oggi siamo arrivati 34-35 ore di podcast nella community c'è altrettanto se non di più perché tipo hai testi hai video penso che siamo la community sugli investimenti in questo momento che ha fatto più contenuti a disposizione degli investitori consapevoli che ci seguono in assoluto penso che non ce ne sia in Italia nessuno che abbia dato di più e proprio per questo ti chiediamo anche una piccola recensione in questa piattaforma che ci sta ascoltando così che possiamo sempre più crescere e perché no condividela con un tuo amico in modo che possa imparare qualcosa in più soprattutto questo podcast risulta molto interessante perché veramente poi inizi a comprendere cosa succede tra le varie aziende che magari tu vai tutti i giorni magari tutti i giorni a McDonald's no però quella volta al mese vai a McDonald's quella volta al mese prendi il volo di Ryanair quando sei con gli altri amici dici ah ma sai che il vero business in realtà che c'è dietro è quest'altro ah no ma davvero e tacca gli giri anche il podcast diffondiamo un po' di consapevolezza anche fuori da investire esatto esatto quindi Hero ci sentiamo alla prossima puntata e ti auguriamo buona giornata ciao 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 Hero